Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Zoom In. Abbiamo oggi il piacere di ospitare Michele Cometa e di ospitare la presentazione del suo volume Cultura Visuale, un volume pubblicato da Raffaello Cortina che ci offre una prospettiva genealogica, come Michele stesso ci racconterà, su questo campo di studi che si è aperto formalmente diciamo all'inizio degli anni 90 del secolo scorso, ma che in realtà, proprio come questo libro dimostra in maniera molto efficace e brillante, getta le sue radici molto più all'indietro in autori come Warburg, come Freud, come Benjamin. Michele, grazie molte per aver accettato il nostro invito. La moderatrice di questa serata sarà Margherita Fontana che ti presenterà al nostro pubblico e alla quale lascio subito la parola. Grazie, Margherita. Grazie, allora io veramente ho un poco da aggiungere perché l'ospite di stasera non ha certo bisogno di presentazioni, però comunque ricordo comunque che Michele Cometa insegna Storia della Cultura e Cultura Visuale all'Università degli Studi di Palermo, ha insegnato nell'Università di Dusseldorf, Catania, Cosenza e Cagliari e tra le sue numerosissime, importanti pubblicazioni ricordo solamente per brevità appunto la scrittura delle immagini, letteratura e cultura visuale del 2012 e perché le strade ci aiutano a vivere la letteratura necessaria del 2017. Quindi non spreco altro tempo, quindi lascio la parola al professore per la presentazione del suo libro Cultura Visuale e la Genealogia che è uscito da Cortina nel 2020. Grazie, grazie Margherita e grazie ovviamente ad Andrea e ovviamente sono molto contento, anche un po' intimorito da questo parterre di colleghi un po' troppo specialisti, diciamo, anzi in alcuni casi sicuramente molto più addentro nella questione di quanto non possa esserlo un povero letterato che ha cercato in tutti i modi diciamo di aprire gli occhi e di cominciare a guardare le immagini ma ho capito che dovrò fare questa, dovrò scendere in questa agone e vedere un pochettino di cavarmela e devo dire peraltro però che per fortuna non sono da solo perché nella storia diciamo della cultura visuale più recente effettivamente queste incursioni da parte di non studiosi del visuale a cominciare da uno dei padri fondatori che tutti noi conosciamo, Tom Mitchell, provengono dalla letteratura. Io insisto ovviamente molto sul fatto che questo aprire gli occhi ha permesso ai letterati di migliorare le loro performance e riuscire un po' dal loro solipsismo e soprattutto dalla diciamo drammatica sottovalutazione per esempio degli aspetti mediali anche di fenomeni che normalmente leghiamo diciamo al verbale per esempio il libro. Ma a forza ovviamente di praticare appunto i visuali si finisce anche poi per pensare di poter dire qualcosa sul visuale e questo libro è il tentativo un po' di fare i conti soprattutto diciamo senza alcuna inclinazione ovviamente senza nessuna sfumatura diciamo autobiografica con il passato di uno studioso di letteratura totalmente concentrato sufficientemente concentrato sulla cultura tedesca e quindi è una strada diciamo molto particolare e diciamo chiaramente in Italia noi abbiamo già un piccolo punto di riferimento direi però decisivo per gli studi italiani che è appunto il libro di Andrea e di Somaini che è appunto il sito della cultura visuale e come vedete basta semplicemente metterli accanto per capire che ci sono sicuramente molte transizioni molte cose simili ma appunto l'impostazione che Somaini e Pinotti hanno dato al libro non poteva che essere diciamo fortemente orientata all'immagine all'estetica ai media tonalità leggermente differenti troverete ovviamente nel mio volume dove evidentemente invece prevale in maniera diciamo evidente l'interesse per la storia delle idee della cultura della cultura anche ovviamente visuale ma anche letteraria filosofica antropologica è un tentativo di raccontare un'altra storia anche Somaini e Pinotti fanno una loro genealogia cominciano con personaggi da tutto diversi e poi certamente convergono in molti punti inevitabilmente anche perché bisogna tenere conto di un panorama internazionale che comunque questi materiali questa cassetta degli attrezzi c'ha io ho fatto una scelta e mi piace confrontarmi con voi ho fatto una scelta innanzitutto appunto di carattere genealogico ma quando dico genealogia lo dico perché penso non tanto a ricostruire la storia che è poi quello che io ve lo male so fare diciamo fa parte della mia diciamo formazione ma di provare a immaginare quali energie in questa storia sono ancora presenti per gli sviluppi diciamo futuri della disciplina infatti il libro Pinotti che è sempre molto cattivo direbbe rimane a metà manca la seconda parte sì effettivamente manca la seconda parte nel senso che quello che mi interessa poi di più è gli esiti di tutte queste diciamo sono genealogie su cui ora dirò qualche battuta la scelta è una scelta diciamo a colpi di accetta nel senso che ho deciso che sono tre autori che sono tre autori tra l'altro che appartengono a una alcune ebraica quindi molto caratterizzati dal punto di vista di quello che può essere una filosofia diciamo dell'immagine che hanno chiaramente esplicitamente un problema con l'immagine hanno un problema per certi versi spesso e volentieri anche teologico se così possiamo dire con le immagini anche se non viene esplicitato in questa formula sono tutti di lingua tedesca quindi è una scelta molto molto parziale tuttavia io credo che sia una scelta difendibile ho provato a difenderla attraverso appunto questa diciamo tripartizione la tripartizione che ha una ovviamente anche una finalità didattica perché il libro ha anche la pretesa di essere insomma una specie di introduzione al campo della cultura visuale dare degli strumenti diciamo a chi legge per almeno cominciarsi ad orientare è però una scelta fatta appunto veramente a colpi di accetta cioè tre nomi soltanto Warburg Freud e Benjamin discutibili discutibilissimi molto particolari sicuramente collegati diciamo ad una dimensione ebraico tedesca che è poi quella ovviamente che io ho frequentato negli anni quindi alla quale mi muovo con maggiore diciamo consapevolezza ma ovviamente non è l'unica scoria è soltanto una delle possibili genealogie quello che mi ha però incoraggiato fin dall'inizio e su questo ovviamente mi sono costantemente confrontato con Pinotti e Somaini è che tutto sommato però si possono utilizzare come diciamo dei grimaldelli per introdurre secondo me le tre grandi questioni secondo me si fa perdire naturalmente nel senso che ormai c'è una convergenza abbastanza diciamo visibile su queste tesi e cioè il fatto che la cultura visuale quanto meno deve tenere insieme se vuole essere una disciplina anzi come giustamente dice il buon Tom Mitchell una indisciplina cioè qualcosa che si muove ai margini delle discipline e le mette fortemente in discussione che dialoga con le discipline che tradizionalmente noi abbiamo utilizzato per studiare le immagini l'estetica la storia dell'arte la sociologia dei media se volete potremmo continuare in questo elenco ecco ciò che caratterizza probabilmente la cultura visuale o questa strategia che in qualche modo riuniamo sotto il termine cultura visuale termine peraltro non ovvio neanche esso diciamo forse addirittura qualcuno potrebbe sostenere sbagliato perché in fondo è un nome di una disciplina ma è anche l'oggetto della disciplina per intenderci per esempio ecco i teorici della pertinenza guarderebbero con sospetto questa confusione io diciamo vado avanti e non non mi preoccupo diciamo un po' troppo di questo tema della diciamo dei livelli mi interessa molto di più mettere in moto una macchina interpretativa che aiuti diciamo a capire cosa sono le immagini e la cultura visuale allora la convergenza che diciamo emerge anche credo dal ragionamento che facevano Somaini e Pinotti è che almeno parliamo di tre cose almeno parliamo di tre cose immagini sguardi e dispositivi certo è una una separazione abbastanza bacchettona se vogliamo non è niente di di che il primo il tema fondamentale e come si coordinano questi tre questi tre aspetti ed ecco perché ho utilizzato ma è una ormai diciamo quasi una banalità all'interno degli studi di cultura visuale la famosa immagine del Dürer in cui appunto c'è un disegnatore di una donna sdraiata che in qualche modo mette in scena icasticamente il rapporto che c'è fra uno suguardo quello del 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 disegnatore un dispositivo tecnico chiamamolo così o insomma qualcosa che sta lì in mezzo e che è appunto il il reticolo della prospettiva e poi un oggetto peraltro un oggetto molto caratterizzato che sollecita immediatamente grandi fantasie che è appunto questa donna sdraiata che si offre o si tra virgolette vende allo sguardo perché si tratta di un'accademia quindi è una scena di di rappresentazione del corpo femminile all'interno di un'accademia inutile dire che già quell'immagine parla tantissimo tutti la conoscete è sicuramente una grande messa in scena del regime scopico come lo chiamiamo noi della prospettiva ed ecco che diciamo tutto gira attorno a questa diciamo simmetria molto semplice abbastanza diciamo semplificata tra tre grandi personaggi che io metto all'inizio di questa genealogia appunto a B. Warburg per l'immagine Freud per lo sguardo e Benjamin per i dispositivi e appunto questa nozione di regime scopico che come sapete matura in un ambito dei studi del cinema sostanzialmente ma che a poco a poco ha cercato soprattutto grazie ad alcuni saggi seminali di Martin Jay di diventare un po' uno dei insomma delle parole d'ordine della cultura visuale e questo è il primo livello diciamo il livello direi della spiegazione a chi si avvicina a questo territorio mi rendo conto diciamo delle semplificazioni e mi rendo conto che la parte più interessante è quella che probabilmente manca cioè appunto gli intrecci poi fra tutto l'interplay come dice appunto Mitchell fra questi tre aspetti qui bisogna poi magari ne discuteremo anche perché abbiamo già discusso con Andrea se è opportuno andare verso un'antisintesi o cercare un po' di moltiplicare lo scenario per esempio io credo che la parola dispositivi sia sufficiente per capire tutto quello che è il nostro universo diciamo mediale ma probabilmente non è assolutamente sufficiente o comunque bisogna ben intendersi su che cos'è un dispositivo non credo neanche che queste categorie siano come si dice ferme nel tempo e immutabili quello che conta è appunto metterle in metterle in dialogo il secondo livello che è quello che appunto lascia immaginare io spero insomma di arrivarci prima o poi un prosieguo e quindi anche una sorta di upgrade di questo ragionamento genealogico sbilanciato verso la contemporaneità il secondo livello nasce da un come si dice da un'istanza di tipo narrativo mi riferisco al fatto che ho utilizzato diciamo una storia che è una storia diciamo molto famosa che si attribuisce che si attribuisce a Freud Freud il lettore di Schliemann il quale come sapete dice insomma sostanzialmente tutta la nostra vita psichica è determinata da una sola da un solo scopo cioè l'esaudimento di un desiderio infantile e allora ho utilizzato come piccolo plot narrativo diciamo l'idea che appunto tutti questi personaggi Harburg Freud e Benjamin avessero un'esperienza visuale tra virgolette giovanile infantile o adolescenziale che ne ha determinato in qualche modo la diciamo la vocazione sarebbe stato un argomento per un testo non di tipo scientifico ma di tipo letterario ma io ho sempre detto diciamo non c'è niente di peggio un professore quando pensa di poter diventare un romanziere però certamente c'è una fiction molto interessante mi riferisco al fatto che a Bivarburg in uno dei momenti decisivi della sua vita in uno dei momenti di crisi anche psicologica e personale della sua vita quando pare che la madre sta morendo si affida alla lettura dei alcuni album e libri e romanzi che parlano degli apache degli indiani e comincia a vagheggiare a sognare diciamo questo mondo che in qualche modo poi si ritroverà davanti agli occhi andando a fare l'esperienza negli Stati Uniti che come noto è l'esperienza fondamentale della sua vita perché lì lavora sul rituale del serpente quindi costruisce diciamo una delle prime diciamo sue grandi costruzioni teoriche la cosa significativa è che Abbie Warburg guarda questi album e queste immagini e questi testi al capezzale di una madre che sarebbe potuta morire in un posto molto strano che è Bud Hichel in Austria e in quella occasione fa una specie di sincretismo di sintesi tra le immagini crudeli degli apache torturati dai cowboy per intenderci un tema importante per la cultura tedesca basta pensare alla figura di Karl May che è una sorta di salgari dell'epopea degli indiani un'invenzione totale diciamo di ciò che erano gli indiani visto da un tedesco e però li combina e lì si capisce che lì effettivamente c'è qualcosa sulla quale dobbiamo soffermarci con delle immagini di una via crucis quindi delle immagini di una sofferenza e di un tipo di rappresentazione del dolore di tipo cristiano sono delle edicole che ci sono a Bad Ischle che raccontano appunto la via crucis e quindi la sofferenza del Cristo eccetera ecco io credo che lì ci sia in germe diciamo la ragione diciamo così tra lo psicologico e il plot narrativo che ci fa capire come Warburg comincia a lavorare sulle immagini mescolando cose piuttosto strane capite bene l'epopea degli indiani per giunta del tutto inventata da un tedesco e una via crucis diciamo cattolica austriaca e chi più la più le metta tutto questo negli occhi di un ragazzino che come è noto invece appartiene ad alcune culturale che non è quella del cattolicesimo ecco io credo che lì ci sia un piccolo plot narrativo e comunque ci sia anche uno dei motivi per i quali Warburg comincia a rivedere completamente e a farci rivedere a stravolgere definitivamente ciò che noi pensiamo delle immagini ecco perché secondo me Warburg va messo nel capitolo immagine dopo Warburg la nostra idea dell'immagine questo non credo di doverlo dimostrare in questa sede è completamente cambiata ed è cambiata probabilmente anche ripeto proprio più scamotaggio narrativo proprio grazie a questa esperienza di Bud Ischel e questa esperienza con queste immagini lo stesso discorso per Freud il quale peraltro appunto è quello che ci ha insegnato a pensare a questi eventi infantili come ciò che deve essere realizzato per tutta la vita anche lui ricordando appunto come Schliemann proprio grazie a delle immagini della guerra di Troia in un normalissimo libro diciamo illustrato decide di scoprire Troia e poi la scopre sul serio come è noto ecco Freud ha un'altra di queste immagini decisive che è l'immagine del Mosè anche lì abbiamo a che fare con una macchina inserutto diegetica ma anche visuale pazzesca perché capite bene che Mosè significa non soltanto gli studi che lui fa su Mosè in quanto diciamo costruttore dell'identità ebraica scusate diciamo la banalizzazione ma soprattutto il lavoro che fa sulle immagini del Mosè a cominciare da quella che tiene nella sua bibbia di casa e che viene gli viene regalata dal padre prima a sette anni e poi a 35 anni quando ormai è uno studioso diciamo quasi affermato e che indirizza tutto il suo modo di ragionare sulle immagini e ovviamente sull'autorevolezza di Mosè sulla autorità di Mosè e su quello che ovviamente Mosè rappresenta per il popolo ebraico da tutti i punti di vista ecco anche lì un mini plot narrativo che però diciamo muove in un'altra direzione muove la direzione di uno sguardo che è lo sguardo di Mosè che si pone che si posa su Freud penso ovviamente soprattutto alla tomba ovviamente di San Pietro in vincoli e quindi al capolavoro di Michelangelo e in generale diciamo a tutto quello che gira attorno all'esperienza romana di Freud e lo sguardo di Freud che si pone su anche lì io credo che ci sia una focalizzazione della questione dello sguardo che ha fatto sì che poi Freud per motivi molto diversi da quelli della religione ebraica ovviamente inventando tutto il grande meccanismo dello studio della sessualità ha finito per legare diciamo a questioni molto più biologiche non teologiche appunto lo sguardo sessuato è quello che può significare terza puntata terzo diciamo mini plot narrativo Benjamin anche Benjamin fa un'esperienza unica nella sua infanzia va a vedere il Kaiser Panorama un dispositivo straordinario come sapete una macchina una stanza un ambiente direbbe Pinotti e Sovaini un'atmosfera se possiamo usare tutte queste diciamo parole che sono in sequenza il grande merito del libro di Pinotti e Sovaini è di dire in tre battute una cosa diciamo secondo me essenziale cioè veramente in una o due pagine che non a caso io antologizzo perché mi sembrano diciamo esemplari cioè guardate che il tema dei media è il tema di una ecologia diffusa e il tema degli ambienti il riferimento ovviamente è alla teoria della Umwelt di Hugh X. Kuhl questo grande biologo che ragiona sui mondi percettivi degli animali che considera autoescludentesi in qualche modo ovviamente totalmente legati al bios dell'animale e quindi fa un ragionamento di tipo biologico Benjamin lo introietta e quando dico ambiente parlando del Kaiser Panorama parlo davvero proprio di un ambiente di un ecosistema il Kaiser Panorama è una macchina dentro una stanza che assomiglia molto a un cinema in cui si entra al buio in cui c'è uno che stacca i biglietti una maschera che ti accompagna ci sono dei rumori c'è tutta una dimensione sonora che è tutt'altro che irrilevante eccetera eccetera cioè appunto un dispositivo un dispositivo mediale complesso un ambiente mediale complesso anche lì un'immagine dell'infanzia che fa di Benjamin questo lo sappiamo uno dei grandi teorici non soltanto del dispositivo dei media del cinema eccetera eccetera ma appunto con questa vocazione cripto vocazione ma neanche tanto cripto ecologica di riflessione sull'ambiente e di riflessione in ultima istanza ed è questo il punto sul quale secondo me bisogna adesso lavorare cioè la seconda puntata a cui alludevo la dimensione diciamo del bios della relazione che c'è fortissima tra immagini sguardi dispositivi e bios nel senso di quello che oggi ormai diciamo è anche molto di moda e va sotto il nome di biocultural turn cioè di attenzione per dimensioni che non erano diciamo implicite in un ragionamento sui media o sulle immagini ma che invece sono il basso continuo di questa riflessione ecco il terzo livello se mi posso permettere diciamo di immaginare il libro con questi tre livelli è che in realtà tutti questi discorsi che abbiamo fatto sono fortemente attraversati da un'istanza biologica mi riferisco al biomorfismo di Warburg che pensa alle immagini in quanto animate in quanto figlie di una tradizione che è quella Pinotti la conosce molto bene della biologia delle immagini c'è di un rapporto fortissimo diciamo tra antropologia antropologia di base potrei dire bioantropologia e costruzione dell'immagine comportamenti che producono immagini Freud a forziori con tutto il tema della sessualità e direi anche appunto Benjamin per quanto riguarda invece l'idea di una dimensione ecologica cioè ambientale e quindi di una riflessione che va verso quella che credo possiamo tranquillamente ormai definire ecologia visuale ecologia delle immagini non a caso non a caso vi sarete accorti vedo che qui c'è il il buon Mauro Carbone vi sarete accorti che c'è tutta una transizione abbastanza interessante da quella che è stata l'archeologia dei media come l'hanno pensata diciamo i nostri colleghi soprattutto i colleghi di cinema eccetera e una dimensione che diciamo possiamo chiamare ecologia dei media se vedete diciamo le evoluzioni soprattutto di quelli che si occupano di media in senso stretto soprattutto quelli che vengono appunto dal cinema vedo che c'è Francesco Parisi eccetera sanno benissimo che questa che questi esistono ancora diciamo tutti da discutere e tutti da approfondire anche perché anche perché ci permettono di rimettere insieme mondi completamente diversi tecnica e bios dimensione evolutiva e dimensione chiamiamola così da virgolette scusate questo vecchio termine spirituale eccetera ecco questi sono i tre livelli nei quali io mi sono diciamo diciamo ho cercato di collocarmi con l'obiettivo di diciamo preparare un ragionamento bioculturale sulla cultura visuale rimettendo insieme diciamo immagini sguardo e dispositivi però dal punto di vista appunto di una adesso non trovo una parola migliore di un'ecologia visuale di un di un ragionamento sul sugli ambienti devo dire che in questo il libro di di Pinotti e Somaini ancorché in poche pagine diciamo fulminanti fa anche scoprire tutto un mondo su cui secondo me bisogna ancora lavorare faccio solo un esempio tornando all'esempio di Benjamin e UX School innanzitutto è una storia interessante e questo diciamo chiaramente a me germanista mi colpisce particolarmente perché è la storia di una rimozione straordinaria cioè Benjamin non nomina mai UX School fa finta che non esiste per motivi che sono fin troppo evidenti UX School è stato un rappresentante del pensiero di destra amico di Chamberlain sicuramente diciamo poco incline a inseguire Benjamin sul fronte diciamo della protesta diciamo sociale rivoluzionaria eccetera Agamben si inventa una storia bellissima che è quella che appunto probabilmente Benjamin abita nella casa Capri della moglie di UX School è una storia abbastanza affascinante io credo che se si sono incontrati nella piazzetta di Capri si sono presi a male parole probabilmente ma certamente vanno molto in comune non ultimo il fatto che UX School è un esperto di cinema va addirittura a studiare il cinema a Parigi insomma c'è tutto un intreccio estremamente interessante che dal punto di vista della storia della cultura meriterebbe ulteriori approfondimenti ma una cosa è sicura Benjamin utilizza i termini di UX School mi riferisco a termini come mondo percettivo paroleine chiave ovviamente su cui già Pinotti e Somaini hanno detto cose diciamo definitive Merkwelt queste parole che però non cita mai UX School perché evidentemente non è diciamo e questa rimozione di UX School che è dovuta anche soprattutto a fattori ideologici è anche abbastanza diffusa è veramente curioso vedere come quest'uomo che ha fornito materiali veramente a tutta la biologia del Novecento e anche materiali culturali a tutta la biologia del Novecento in realtà poi venga tasciuto mi è capitato di recenti di occuparmi di Nabokov piuttosto che di Kafka sicuramente al corrente delle teorie della Humboldt delle teorie di UX School in presa diretta cioè si leggerono gli articoli sulla Neuer Rundschau appena uscivano e nessuno di questi si degna mai di citare sto parlando di Kafka non sto parlando quindi di personaggi di secondo momento o di Nabokov si degnano mai di citare UX School come se ci fosse questa specie di stigma e certo l'uomo si era reso particolarmente antipatico con questa sua adesione alle teorie razziste eccetera ma certamente stava a Napoli lavorava al centro di ricerca marino di Napoli di Dorn e quindi insomma voglio dire i contatti anche probabilmente anche proprio personali con personaggi come quelli della diaspora di Capri tutta l'intelligenza come sapete comunista stava a Capri in esilio tra cui Benjamin appunto sicuramente ci saranno stati insomma qualcuno un giorno li ricostruirà tutto questo però per dire che cosa per dire che possiamo scavare in questa direzione del BIOS e del rapporto fortissimo eccetera una teoria delle immagini basata su una biologia delle immagini una teoria dello sguardo basata su una diciamo chiamiamola così adesso in maniera un po' spiegativa biologia sessuale e una teoria del dispositivo basata su una ecologia che io credo può costituire un punto di approdo ulteriore degli studi culturalvisuali in questi in questi anni e negli anni che verranno questa è diciamo la struttura del libro in mezzo ci sono altre cose evidentemente ci sono io spero anche delle informazioni utili per chi non certo non questo pubblico che vedo qui che chiaramente è fin troppo attrezzato diciamo si divertirà probabilmente uno studioso di cultura visuale si divertirà probabilmente più a ricostruire la storia dei cowboy di Warburg piuttosto che quella di UX School ma certo non gli serviranno strumentazioni presenti nel libro per capire che cos'è un atlante delle immagini piuttosto che una riflessione sul cinema chiaramente ma invece mi auguro anche che chi invece non ha avuto mai contatti con la cultura visuale possa apprendere quei due tre quattro cinque sei sette attrezzi del mestiere che sono utili per per la disciplina uno dei plot narrativi l'ho detto è quello biografico l'altro plot narrativo su cui insisto è la dimensione dell'iconoteca io penso che questi signori siano stati tutti dei grandi costruttori di iconoteche iconoteche reali come nel caso per esempio ma reali anche materiali pensate per esempio alla raccolta della collezione di antichità di Freud che si circonda di un museo sta dentro un'iconoteca e utilizza queste immagini per lavorare poi diciamo psicologicamente cioè le utilizza lo dimostra per esempio ho provato a citare l'episodio di Hilda Doolittle che è una di queste sue tra virgolette allieve pazienti che sa benissimo che il maestro utilizza questi questi oggetti questa enorme collezione anche di falsi il che la dice anche lunga sulla liberalità di uno come Freud che non era interessato non era interessato alle antichità era interessato all'immagine dell'antichità e le utilizza nella pratica diciamo terapeutica e lì si è andata proprio di un'iconoteca non è vero che esiste come sapete soltanto una parte è stata diciamo salvata ed è nella casa di Londra dopo ovviamente la il fatto che Freud dovette lasciare chiaramente Vienna e però erano diciamo era proprio un museo a tutti gli effetti cioè molto più che un'iconoteca era proprio una teca che conteneva degli oggetti ma lo stesso discorso vale a un livello di maggiore diciamo come si può dire virtualità ma fino a un certo punto anche lì virtualità con l'Atlante delle immagini Warburg tutta diciamo sostanzialmente la vita non fa altro che assemblare queste immagini certamente in maniera paradossale ossessiva nella fase finale della sua attività quando si inventa appunto l'Atlante che è un dispositivo diciamo assolutamente decisivo per comprendere che cosa può essere lo studio delle immagini nel Novecento ma queste non sono cose che devo dire io sono diciamo ovvie e certamente è stato il merito principale di Uberman quello di segnalare diciamo questa 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 dimensione icono icono testuale potrei dire addirittura che ha determinato non solo l'esperienza di Warburg ma di metà delle avanguardie del Novecento e probabilmente continuerà a determinarla il tema dell'archivio chiaramente eccetera e lo stesso discorso vale per il meno il più virtuale di tutti il Passagenberg cioè l'opera finale tra virgolette l'opera anche questo uno straordinario torso mai riuscito che è appunto il libro sui passaggi di Walter Benjamin dove anche lì lì abbiamo ben poco da vedere molto poco ma io provo a ricostruire il fatto che Benjamin era invece molto interessato a questa ricostruzione anche diciamo materiale del suo Atlante purtroppo non abbiamo non ci sono rimasti sono pochi frammenti le raccolte di riproduzioni di immagini che lui faceva fare e con le quali avrebbe probabilmente illustrato il Passagenberg se ci fosse riuscito anche qui un'opera diciamo fallita ma su questo fallimento noi ancora oggi costruiamo diciamo tutte le nostre glorie sostanzialmente e anche lì si tratta di un Atlante delle immagini sempre sempre meno materiale tra virgolette ma ovviamente è una frase che dico con qualche con qualche timore perché è chiaro che si tratta comunque di supporti mediali di fotocopie di fotografie di riproduzioni di incisioni eccetera sarebbe molto interessante ci hanno provato moltissimi come sapete a illustrare o come sarebbe potuto essere diciamo il 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 Passagenberg se fosse arrivato a una fase finale di elaborazione certamente ci sarebbero state delle immagini Benjamin le raccoglieva le fotografava nei limiti del possibile le assemblava e alcune sono rimaste come è noto alcune celeberrime entrano ancora oggi dentro le edizioni critiche del passaggio perché anche lì un'iconoteca ecco allora forse interrogarsi sul meccanismo e sulla logica dell'iconoteca può essere un buon modo per introdurre al lavoro sulle immagini sugli sguardi dispositivi e questo diciamo è un ulteriore livello che io ho cercato di infilare diciamo in questa introduzione alla cultura visuale cioè facendo vedere come come questi signori lavoravano con le immagini certo è una goccia in mezzo al mare cioè stiamo parlando di opere complesse fra le più complesse del novecento quindi nessuno può pretendere di capire cosa è la tranta delle immagini leggendo le mie dieci paginette né tantomeno che cos'è il Passagenberg bisognerà integrare con altre letture altri studi però mi pareva importante segnalare diciamo questa ecco questa chiamiamola così veramente disposizione mediale di questi tre signori che cercano di costruirsi appunto un un sistema visuale di riferimento naturalmente mi devi interrompere Margherita perché potrei continuare quindi tu sei tu che devi mantenere diciamo il ritmo ecco questa è l'impostazione che io ho pensato di dare al libro e che diciamo è chiaramente esplicita e alcune cose sono meno forse marcate di come le sto raccontando adesso si possono si possono intuire l'altra volta in una conversazione con Andrea sono emessi per esempio degli aspetti che io stesso non avevo considerato e che lui invece ha subito ovviamente dal suo punto di vista diciamo focalizzato magari ora riprendiamo questo questi discorsi perché poi anche per me è stata una grande soddisfazione vedere come veramente come dicevano i vecchi i vecchi romantici ciò che l'autore non sa ciò che l'autore non ha capito e che invece Andrea per esempio ha capito guardando il libro cogliendo altri aspetti importanti ma non tanto di quello che dico io ma della macchina che insomma ho provato ad assemblare mettendo insieme Warburg Benjamin e Freud allora direi che non cioè non non perdiamo come dire possiamo aprire la discussione se se la presentazione è finita quindi io posso potrei parlare ancora per ore ma penso che le cose diciamo almeno di aver dato un quadro delle quello che pretendo che ci sia dentro poi siamo siamo perfettamente nei tempi nel senso che abbiamo ancora proprio la metà dell'incontro proprio per per aprire la discussione quindi invito tutti quelli che desiderano fare una domanda di apre notarsi in chat che adesso dovrebbe essere attiva sì infatti lo è quindi basta scrivere il proprio nome dentro la chat e e possiamo aprire la discussione ma nel frattempo se se posso se posso aprire insomma aprire io le danze pensavo a una domanda che non ho che che mi è venuta pensando soprattutto alla alla riflessione finale sulla svolta bioculturale che che insomma mi ha mi ha fatto mi ha fatto pensare una cosa rispetto al al carattere indisciplinato appunto della della cultura visuale cioè io mi sono mi sono chiesta se questo carattere indisciplinato corrisponde in un certo in un certo modo anche a un a un come dire a una a un a un a un modo anche sovversivo in qualche modo di di agire rispetto alle altre discipline ma in generale forse al al alla sfera mediana in generale quello quello che mi chiedevo è data l'importanza del punto di questa di questa svolta bioculturale quindi del riconoscimento di questo rapporto come dire costitutivo e molto evidente con col BIOS quale quale può essere forse il anche il portato politico di questa della riflessione che la cultura visuale può portare soprattutto nel soprattutto nell'epoca contemporanea perché quello quello che io io personalmente trovo è che sebbene appunto questo legame con le pratiche viventi sia evidente estremamente tematizzato forse trovo che sia meno meno un po' meno messo messo in luce in generale il insomma il punto di vista che potremmo avere per intervenire sui modi di per pensare diciamo in modo diverso di produzione delle tecnologie nell'epoca contemporanea quindi mi chiedevo se questo carattere indisciplinato poteva corrispondere a un'altrettanta irriverenza anche sul piano politico eh guarda tocchi tre punti in realtà in questa tua domanda il primo è uno banalmente banalmente chiamiamo così non perché sia banale il punto ma perché è facile da comprendere banalmente accademico certamente abbiamo un grandissimo deficit di dialogo tra cultura scientifica e cultura eh chiamiamola letteraria come la chiamerei io diciamo cultura eh filosofica eccetera ed è evidente che non usciamo eh non ne usciamo con l'assetto generale dell'università italiana e appunto eh un gruppo di ricerca come il vostro e diciamo eh appunto il classico supplemento pericoloso avrebbe detto Mitchell parafrasando Derrida cioè effettivamente un progetto come quello ISI che guida Andrea certamente si colloca già subito in una situazione strana poco fa scherzavamo con i colleghi di collega informatica io non centro niente no e appunto è proprio questo il punto della faccenda e centri e come ed è questo diciamo è un dramma che tutto questo non possa essere praticato ancora in maniera piena dentro diciamo l'università dentro l'accademia italiana perché effettivamente abbiamo diciamo interrotto tutti i ponti ed è assolutamente improponibile pensare un discorso sui media che non tenga conto da un lato della questione della tecnica e che già non c'entra niente con i letterati i filosofi così come sono stati strutturati dentro l'università e poi ovviamente l'immediato rapporto che c'è tra tecnica e biologia citavo poco fa Francesco Parisi che è qui credo con noi che ha scritto un libro diciamo per dire signori di che stiamo parlando o parliamo di qualche cosa che integra diciamo queste prospettive o diciamo non riusciamo a parlare neanche dei media più stupidi delle cose più semplici che ci capitano ogni giorno e non parliamo poi dentro presumo conoscendo ovviamente il lavoro di Pinotti temi come l'immersività eccetera o si parla in termini che siano diciamo sbilanciati nei vari regni compreso quello animale aggiungerei oppure non abbiamo diciamo siamo completamente proprio fuori dalla diciamo questo è il livello diciamo tra virgolette più banale che però è una grande sfida e potrei anche usare termini come i tuoi è anche una grande sfida anche un po' politica nel senso che che facciamo non è che possiamo stare qui a pensare che l'università è fatta ancora di letterature nazionali cioè pensate che noi insegniamo ancora letteratura inglese letteratura tedesca come se fossero mondi quelli già separati figuriamoci se parliamo di tecnologia e di e di letteratura per identici questo è un primo diciamo livello però è quello un po' più così più semplice da da comprendere il vero problema è chiaramente andare in direzione di una come la chiamano i nostri colleghi scienziati una conscience cioè di utilizzare materiali e categorie e strategie comuni certo abbiamo in questi anni vissuto forti tentativi di avvicinamento tra questi mondi pensate il più eclatante qui ci sono lo vedo ci sono alcuni dei protagonisti di questa vicenda quello fra neuroscienze cognitive e mondo dell'estetica e del e della riflessione sull'arte sull'immagine eccetera abbiamo fatto dei passi da gigante abbiamo irritato anche moltissime consorterie e moltissime accademie abbiamo rischiato di dire fesserie nel senso che chiaramente vai a mettere insieme il linguaggio di un neuroscienziato come Gallese e quello di un storico dell'arte come David Friedberg per citare diciamo colleghi a noi molto cari e lo stesso Andrea che è qui con noi ha lavorato a questo progetto per anni toccando argomenti strategici come l'empatia piuttosto dove evidentemente bisogna tanto per cominciare a mettere si d'accordo sul vocabolario poi figuriamoci sui temi e poi figuriamoci sulle sperimentazioni e poi figuriamoci sugli esiti diciamo teorici finali e però diciamo è stato necessario fare questo questo passaggio che secondo me può essere ulteriormente implementato e deve essere implementato bisognerà capire quale sarà il luogo probabilmente saranno i gruppi di ricerca come il vostro iersi non immagino che potrà essere un'università sclerotizzata come quella italiana cerco di essere ottimista ma insomma qualche volta cadono le braccia diciamo se uno ci pensa un attimo e certamente tutto questo poi c'ha un ulteriore chiaramente livello che è diciamo un livello ecco potrei dire in maniera un po' banale filosofico alto cioè questa reintegrazione è necessaria perché altrimenti rischiamo di non comprendere quello che sta succedendo quello che sta succedendo ma anche nella nel medium più banale o nell'immagine più banale ecco per esempio la cultura visuale ci ha molto aiutato da questo punto di vista se pensate a tutta la riflessione che si è messa in moto sulla vita delle immagini no? o sulla loro vitalità sul loro essere in qualche modo parte di un processo appunto biomorfico qualche giorno fa con Chiara Cappelletto abbiamo presentato Gelle è uno dei tanti libri dei tanti come si dice piccoli monumenti ai margini di una di un diciamo dialogo tra immagine e BIOS che per fortuna diciamo ha addirittura adesso ha addirittura invaso la cultura visuale basta pensare a tutti i libri che sono usciti semplicemente sulla gentilità delle immagini ora ci saranno dei limiti ci sono anche dei cortocircuiti teorici ci sono anche degli accecamenti nel senso che parliamo di cose diverse pensiamo di parlare della stessa cosa quando parliamo di agentività di animazione di animismo eccetera eccetera ci sono ancora un sacco di errori di grammatica diciamo in questo nostro discorso ma c'è una cosa certa che questo sforzo va fatto e che non a caso infatti a cominciare dal io faccio iniziare questa genealogia ma sono per un fatto così al solito mio per trovare un inizio che non c'è mai come è noto che ne so The Power of Images di Friedberg che non a caso poi diventa l'estensore di una teoria diciamo tra virgolette neuroscientifica e cognitiva sull'immagine il quale dice guardate le immagini ci parlano ci appellano ci chiamano ci coinvolgono ci emozionano bla 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 e poi Gell appunto recentemente edito da Chiara Cappelletto e poi Bredekamp che a suo modo entra in questo dibattito e poi Mitchell con quel libro secondo me decisivo in cui ci spiega delle cose che appunto stanno talmente sotto gli occhi di tutti che se non le affrontiamo rischiamo veramente di che ci stiamo occupando pensate al tema del clone per esempio che lui tira fuori nel suo libro su What do pictures want o i temi appunto che creano questa imbricatura tra bios e immagine o bios dispositivo e via discorrendo ecco io credo che diciamo questo sforzo va fatto e va fatto anche dialogando con discipline che non sono ovvie neanche per un estetico tra virgolette neanche meno per un letterato come me che ne so l'archeologia cognitiva nel senso che abbiamo cominciato a capire che esiste una storia del funzionamento della mente che questo funzionamento della mente è una storia esterna al cervello o comunque diciamo all'hardware per intenderci è una storia di esternalizzazioni è una storia di pratiche motorie direbbe bongallese è una storia di media esterni e ecco tutto questo diciamo in qualche modo comincia ad aiutarci seriamente anche nel nostro lavoro diciamo estetologico ma direi persino letterario cioè una cosa ancora più lontana se ci pensate cioè io non riesco più a immaginare una letteratura che non sia profondamente imbricata con una tecnologia a parte che la letteratura è una tecnologia questo diciamo va da sé chiaramente però ste cose adesso noi fra di noi ce le diciamo e siamo tutti molto come si dice anche simpatetici ma se io entro in un convegno di letterati e parlo del fatto che la scrittura è una tecnologia mi guardano come diciamo ma questo che ha che gli è preso ancora oggi attenzione o se dico guardate però che il testo è un'immagine almeno quanto è un testo ti guardano e dire sì vabbè ma sì tra l'altro voglio dire tutto questo in una cultura come quella italiana diciamo che ha avuto Umberto Eco voglio dire è veramente una barzelletta se ci pensate da molti punti di vista ecco quindi la tua domanda è una domanda che ha molte sfumature che vanno anche veramente poi sul senso poi del del nostro lavoro cioè credo che non ci siano santi cioè non si comprende la contemporaneità non si comprende d'altronde un progetto come come quello che guida Andrea diciamo ha dentro tutte queste componenti lo dimostra semplicemente il fatto che è bastato così ascoltare i progetti singoli di ricerca per capire che questa consilienza è la come si chiama è la base del ragionamento quindi insisterei molto e certo è faticoso è estremamente faticoso perché bisogna andare corriamo il rischio di fare degli errori anche di grammatica è difficile introiettare campi del sapere che ai quali non siamo abituati fin da piccoli perché per molte parti per noi più anziani sicuramente abbiamo passato 40 anni a occuparci soltanto di parole e non ci siamo mai accorti che le parole stanno dentro i corpi per esempio dentro le azioni dentro le tecniche no? Grazie allora vedo la chat e allora lascio la parola ad Andrea Pinotti per la sua domanda Grazie Michele grazie e speriamo che un ecco di queste tue ultime parole arrivi fino alle orecchie della nostra ministra che metta mano alla disgraziata situazione di compartimentalizzazione dei nostri famigerati settori scientifico disciplinari ma insomma ci sarebbero tantissime cose che mi piacerebbe riprendere con te hai citato le pagine che hai dedicato sono molto belle mi hanno anche chiarito tantissimo del ruolo del concetto di Umwelt di ambiente dentro nel corpus di Benjamin che ovviamente tace questa derivazione come hai ricordato ma penso più in generale che oggi rileggere Uxquil sia un'occasione per ripensare anche a come non solo i sistemi percettivi degli animali compreso compresi noi ma anche i media siano delle forme di bolle selettive che tanto ci fanno vedere o percepire più in generale quanto ci ci tengono fuori pezzi di mondo e quindi possibilità e limiti dei media delle protesi mediali in una prospettiva come l'aveva impostata Uxquil nella sua biologia teoretica ma poi è il tema bios proprio io penso che il tuo libro tra le tante cose che ci racconta ci racconti anche di questa polarità o di questo rapporto tra biografia e biologia dell'immagine biografia per i motivi che tu hai ricordato perché sono molto belle e divertenti le pagine in cui ci racconti appunto dei cowboy e degli indiani di Warburgo delle statuine di Freud cioè il motivo biografico di questo ancoraggio di questa fascinazione per l'immagine d'altra parte Graf Fain era scrivere sì la vita ma anche disegnarla era un verbo che per i greci voleva tanto dire dipingere quanto scrivere e questo mi porta poi a quest'uso biologico questa funzione biologica dell'immagine ed è anche un modo per riallacciarmi più in generale alle ricerche che tu stai conducendo in questi ultimi anni perché parlare di biologia dell'immagine significa parlare della funzione dell'immagine per la sopravvivenza ed è un tema che tu hai indagato in lungo in largo anche nell'altro grande registro che caratterizza l'espressività umana cioè la parola mi riferisco ai tuoi lavori sulla narrazione e io penso che questo tema della distanza della distanziazione dell'intervallo che è un tema molto varboriano ma che è anche il tema dell'esonero che ti è molto caro e che tu hai rilanciato in questi tuoi lavori sempre riferendoti a degli autori piuttosto scomodi dal punto di vista politico ideologico e e questo bisogna riconoscertelo li stai li stai sdoganando in qualche modo e rimettendo in una in un circuito di discussione ogni tanto mi prendo anche qualche credo che tu fossi presente quando mi hanno mandato a quel paese la straordinaria antropologa che Susanne Kuechler tra l'altro una leva diciamo tra virgolette di gel e mi ha dato del nazistone e mi ha dato del nazista direttamente perché avevo semplicemente citato il buon diciamo Arnold Galen e però anche lì ecco io vedo e qui voglio fare proprio lo storico della cultura tedesca che è poi l'unica cosa che bene o male diciamo so fare io vedo lì un momento magico diciamo del pensiero del novecento dove appunto le strade non siano ancora divise cioè Galen era certamente uno che riesce a costruire un'antropologia dove tecnica e e e e parola e immagine convivevano e riuscivano diciamo a stare all'interno di un progetto di un libro che non a caso si chiama l'uomo certo ci fanno più simpatia i Plessner qualcuno può anche sostenere ed è stato sostenuto giustamente che Helmut Plessner in realtà ispira molto di più Galen di quanto in realtà non non riusciamo a comprendere insomma si possono fare un sacco di discorsi storiografici però certamente io poi diciamo da germanista sono diciamo programmato fin dall'inizio a mettere mano al negativo e la storia della germanistica italiana pensa ai nostri maestri ai vari Ferruccio Masini piuttosto che Massimo Cacciari cioè bisogna mettere mano a questo a questo magma che certamente è pericolosissimo e peraltro ha indotto alcuni di questi a fare delle scelte fatali ha cominciato dallo stesso Galen ha cominciato dallo stesso ma questo poco importa voglio dire il problema è rintracciare quella traccia di pensiero infatti vedo che con molta più nonchalance i nostri colleghi che vengono dai media piuttosto che dalla teoria del cinema utilizzano questi materiali certo io per esempio sono rimasto fortemente scioccato quando appunto Susanne Küchler che chiaramente è una collega tedesca emigrata quindi che ha un po' abbandonato diciamo la sua identità tedesca chiaramente ebrea eccetera è insorta violentemente dicendo ma c'è bisogno di citare Galen eh sì c'è bisogno di citare Galen purtroppo c'è bisogno di citare Galen ma al di là di queste faccette che sono appunto diciamo piccola storia del il dato certo è che lì ci sono delle categorie che ci aiutano moltissimo eh eh a lavorare sul mondo dei media ecco tu citavi per esempio cortesemente questa mia fissazione sul tema dell'esonero cioè sul fatto che appunto questo porre distanza come diceva come diceva il buon Warburg questo comunque scaricarsi dall'assoluto della realtà come avrebbe detto Blumenberg solo che noi Blumenberg lo citiamo perché ci fa molta simpatia poi era anche appunto certamente non aveva simpatia nazista evidentemente mentre Gelen no ma se ci andiamo a leggere i libri di di Blumenberg e lì la separazione non è mai avvenuta se andate a leggere il libro sul sul destino dell'uomo per esempio questi frammenti questi testi che sono rimasti poi nel Naclas e cioè lì Gelen è ogni pagina per intenderci ecco allora i nostri ripeto colleghi maspediologi o i colleghi che vengono dal cinema eccetera se ne fregano uscitano tranquillamente uno che ha fatto il germanista deve stare un pochettino più attento ma il dato fondamentale non è tanto il fatto storico o cultura è il fatto che il tema dell'esonoro è una strategia diciamo antropologica che attraversa io credo in maniera appunto tu ci evitavi giustamente alla distanza di ricorderai naturalmente sei un esperto di Warburg quando dice stai lì e non mi puoi fare niente i frammenti sull'espressione di Warburg il tema del porre distanza come ciò che costruisce la cultura tanto per dirla adesso in una battuta e quindi Warburg ma poi il passaggio da Galen e a me è capitato a me è capitato di ritrovare argomentazioni simili e quindi sulla possibilità appunto di diciamo distanziare del vivere il come se nelle riflessioni di un neuroscienziato che non sa non sapeva ora purtroppo penso che se lo sogna la notte di Galen come Vittorio Gallese che quando fa le sue riflessioni per esempio anche sul tema della narrativa in questo bellissimo saggio che ha scritto con la Wojciechowski in cui dice beh è il nostro stare immersi in una per esempio in un cinema piuttosto che in una narrazione che ci permette di liberarci dal peso del mondo dall'assoluto della realtà e ci consente di sperimentare in tutta tranquillità e in tutta serenità e lontani dalle cure del mondo se lo vogliamo dire adesso in maniera un po' così heideggeriana delle potenzialità diciamo emozionali immaginative che altrimenti non si non si innescherebbero anzi direbbe Galen è proprio questa nostra capacità di staccare attraverso l'esperienza estetica naturalmente di questo stiamo parlando quella che ci permette appunto la sopravvivenza è fatto bene a usare questa parola anche qui ormai siamo in un mondo in cui ci ho provato a lavorare ho cercato di dirimere un po' la questione c'è un darwinismo a go go se non sei darwinista non puoi neanche più fare l'estetico per intenderci il che per carità è vero è importante ed è sicuramente una strada che andrà ancora battuta e che alcuni colleghi autorevolissimi parlo di Mendinghouse piuttosto che di Salgaro eccetera stanno battendo voglio dire ma al di là diciamo delle mode non c'è assolutamente nessun dubbio che immagine e parola sono comportamenti tecnici che hanno una funzione di sopravvivenza se non li abbiamo mai dismessi ci deve essere pure un motivo direbbero i darwinisti cioè se abbiamo continuato a comportarci in maniera figurativa e a commentare peraltro probabilmente già nelle scaturigini ultime diciamo di questo comportamento parlo delle caverne del paleolitico su cui tanto abbiamo chiacchierato se abbiamo cercato schermi se abbiamo cercato pareti su cui appoggiarci e su cui proiettare le nostre le nostre visioni magari interne eccetera un tema che secondo me va ripreso va ripreso proprio con la chiave che ci dà Mauro Carbona a proposito della sua diciamo filosofia degli schermi ecco se l'abbiamo fatto sempre ci deve essere un motivo e questo motivo è chiaramente un motivo legato al fatto che ci aiuta a sopravvivere non a caso il libro che tu frattamente citavi si intitolava perché le storie ci aiutano a vivere banalmente cioè perché le storie ci aiutano a vivere perché hanno questa diciamo questa questa funzione le storie e chiaramente le immagini ma sai io tendo ormai a non fare più grandi differenze cercherei una una riflessione a monte che probabilmente va sotto la parola tecnica non saprei neanche dirlo in questo momento ma diciamo non è particolarmente importante va bene allora lascio la parola a Giancarlo Grossi buonasera grazie per questa bellissima presentazione io volevo tornare sulla genealogia sulle scelte genealogiche perché mi interessa molto la scelta di Freud come precursore delle teorie dello sguardo perché penso che mentre è abbastanza pacifico che che Benjamin e Warburg possono essere considerati dei precursori della cultura visuale invece in in questa inclusione di Freud io vedo una mossa teorica nel senso che mi sembra uno degli aspetti più audaci del libro e quindi anche di quelli teoricamente più interessanti e mi chiedevo se in questa mossa non ci sia anche la capacità in un certo senso di mettere in discussione alcuni aspetti canonici della stessa cultura visuale penso ad esempio alla distinzione tra immagini materiali e immagini mentali tra images e picture grazie no hai perfetto avete ragione anch'io se dovessi dire ma qual è la cosa più strana è certamente Freud l'inserimento di Freud ma io mi sono convinto di condivati tutti questi dello storytelling parola che non dovrebbe mai dire uno che si occupa di letteratura ma insomma dello storytelling appunto l'iconoteca le antichità eccetera 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 certamente una cosa è sicura Freud ha legato il tema dello sguardo alla sessualità questo lo sappiamo l'ha fatto in opere capitali e la cosa veramente divertente su cui io un po' mi soffermo e che e che ci ha imprigionato veramente letteralmente imprigionato non solo ha imprigionato noi ma ha imprigionato anche tutti gli sguardi alternativi a quello sguardo maschile che lo caratterizzava che è lo sguardo diciamo della teoria femminista fino alle ultimissime alle ultimissime diciamo cioè la verità vera è che ovviamente lo sguardo di Freud lo sappiamo perfettamente è uno sguardo totalmente al maschile che ha determinato tutta la ricezione del dello sguardo passando diciamo per la cane eccetera eccetera ma che poi arriva per esempio a una teorica come Laura Malvey che è proprio letteralmente prigioniera di questa logica per esempio del feticismo che ovviamente è tutta declinata al maschile se guardiamo la storia io faccio piccoli accenni fino a qualcuno delle femministe più moderne ma la storia continua la storia continua fino a oggi a Donna Haraway piuttosto che che alla Gross piuttosto che la Butler piuttosto che è riuscito talmente potente questo input freudiano al maschile che ha costretto intere generazioni di femministe a ribellarsi facendo anche un sacco di guai cadendo in una serie di contraddizioni con tutti i rispetto ovviamente di titani come Lara Mulvey piuttosto che Elizabeth Gross eccetera però hai ragione tu quando dici beh la cosa è la cosa più strana alla fine questo questa questa questo inserimento di Freud innanzitutto perché non siamo abituati e anche qui c'è stato un processo molto lungo ad immaginarlo come un teorico dell'immagine no? pensavamo che fosse il grande profeta della parola la psicoanalisi è diciamo un lavoro sul linguaggio il che però drammaticamente non vero semplicemente basta diciamo guardare già quello che lui faceva con le immagini e come viveva appunto in questa iconoteca certamente però qui si apre una diciamo una strada tutti i concentri su questo tema image picture cioè immagini mentali immagini immagini materiali di cui peraltro Freud in qualche modo è anche diciamo consapevole certo è anche il colpevole di una di questo enorme mescolamento pensa alla storia del cinema per esempio la storia del cinema che diciamo tra virgolette psicoanalitico che è sembrato diciamo un perfetto dispositivo che permetteva di mettere insieme sogno realtà immaginario media no pensate ma basta pensare a itch perché non sarebbe una tonta e però è pure vero è pure vero che ci sono altre altre componenti al di là di questa diciamo questa india di che tu individui e che certamente potrebbero ulteriormente scardinare diciamo le sicurezze che ci siamo costruiti spesso malinterpretando Freud faccio un esempio questo rapporto con con la sessualità con la costituzione dell'individuo e oggi stiamo scoprendo che ci permette un traghettamento dall'umano per esempio all'animale se andate a vedere per esempio le riflessioni diciamo post freudiane del pensiero femminista più attuale mi riferisco a Donna Haraway piuttosto che a Rosy Braidotti eccetera e vi sarete accorti per esempio che c'è questo scivolamento diciamo dall'umano verso l'animale e qui ritorna sempre la questione a cui alludeva anche Andrea cioè UX School e il fatto che esistono mondi percettivi esistono sguardi alternativi ecco per esempio se andate a leggere le ultime femministe avete detto conto che proprio in un'ottica di riconciliazione dell'umano e dell'animale che chiaramente è anche una mossa politica chiaramente e certamente è una mossa filosofica che riguarda appunto il diverso l'altro l'alternativo non ci dimentichiamo che che ne so una come Donna Haraway comincia da primatologa cioè studia le scimmie si laurea in primatologia e poi scrive un grandissimo libro sull'immaginario delle scimmie per intenderci King Kong e cose di questo tipo nella comunicazione di massa un libro straordinario purtroppo non tradotto in italiano che è il suo primo libro ecco però questo filone che come si dice ha questa valenza femminista tra virgolette ci aiuta a capire e qui hai ragione tu quando dici guardate che Freud ci porta lontano ecco ci porta per esempio ad una rinnegoziazione di ciò che è umano e ciò che è animale e quindi naturalmente c'entra chiaramente sempre il buon Darwin c'entra ovviamente il problema evolutivo ma c'entrano anche questioni molto molto come si dice potenti anche dal punto di vista politico e culturale che sono appunto quelle di una redeterminazione del ruolo dell'umano dell'umano nel senso del sapiens all'interno di un contesto ecologico ecco io Freud lo leggo in questa lo leggo come potrei dire adesso con una battuta come se gli avesse passato tutta la vita ad avere tirato la giacchetta dal pensiero femminista al punto tale al punto tale che alcune cose che erano nei suoi presupposti anche nei suoi presupposti tecnici perché quello comincia come studioso ad animali Freud per intenderci se stiona Molluschi fa queste cose li disegna tra l'altro disegna anche abbastanza abbastanza bene solo che questa sua prima produzione è poco conosciuta e arriva per esempio a una grande questione che è quella appunto della rinegoziazione dei limiti dell'umano e dell'animale e scusate se è poco nella teoria dei media di oggi scusate se è poco nella teoria dei media di oggi non soltanto perché è un problema politico generale è un problema di ridefinizione dell'umano dell'umano nel senso appunto del sapiens ma è anche un problema che pensate per esempio a tutte le riflessioni che fanno i cosiddetti archeologi dei media penso a Jussi Paricca tanto per dirne uno che comincia a lavorare su questi organismi viventi in quanto modelli per il funzionamento dei media gli insetti piuttosto che i virus eccetera ecco io credo che Freud diciamo dobbiamo continuare a tirare dalla giacchetta sia che siamo femministe sia che non lo siamo perché è una riflessione ripeto su su mondi che ahimè avevamo imparato a scotomizzare però sono un suo termine cioè diciamo a guardare in maniera separata prima lo sguardo femminile e lo sguardo maschile poi lo sguardo animale e lo sguardo e lo sguardo umano aggiungerei adesso fra pochissimo anzi no fra pochissimo è già successo lo sguardo macchinico e e e lo sguardo animale mi riferisco per esempio appunto alle riflessioni che fa Paricca su su appunto gli sciami piuttosto che no il eh gli insetti o o i virus ecco eh lì dentro c'è moltissimo ecco perché alla fine ho detto ma sì no Freud sì perché Freud ci costringe diciamo a questo percorso che spero venga sempre più eh esplicitato diciamo a chi ci lavorerà insomma eh eh di eh ripensamento eh veramente di ripensamento del BIOS a 360 gradi e c'è voluto tempo però appunto c'è voluto molto tempo perché appunto prima pensavo e ce l'avevamo soltanto col Freud maschilista e quindi un sacco di riflessioni appunto sullo sguardo femminile vediamo come lo costruiamo e vi discorrevo adesso siamo arrivati già al allo sguardo animale e lo sguardo animale ha una contiguità con lo sguardo macchinico dei media io ovviamente lì non entro perché non è cosa mia ma invece è cosa vostra nel senso che vi dovrete porre vi dovrete porre il problema diciamo dell'occhio della macchina per intenderci tanto per dirne una se bisogna fare lavori sui media generalmente allora abbiamo ancora sette minuti e cinque domande quindi quindi ci sarà ci sarà bisogno di un grandissimo sforzo di sintesi sentiamo le domande io faccio una sola risposta va bene allora le raccogliamo quindi partiamo con la domanda di Antonio Tramontana sì non so se mi sentite buonasera cercherò di essere molto molto breve intanto una piccola testimonianza da sociologo utilizzo che è e lì produce molta indifferenza quindi se vuole se vuole trasmigrare diciamo così lo può utilizzare tranquillamente a me a proposito di questa schizofrenia della conoscenza organizzata per settori scientifici disciplinari mi veniva in mente un personaggio tanto che era Barbour quanto a Benjamin che Goethe è il modo in cui organizza la conoscenza che si comprime e che ha in un certo senso la possibilità di essere utilizzato tanto nel Faust quanto nella possa essere considerato un panteo di questo tentativo di superare appunto la separazione del sapere e che in fondo anche lui c'è una cultura dell'immagine una sorta di iconoteca con cui con cui organizzare la conoscenza cioè mettere insieme le foglie mettere insieme frammenti di ossa eccetera eccetera cioè potrebbe essere il personaggio ma lo chiede con timidezza al germanista che riunisce tutti questi tentativi in un certo senso sotterranei in tutta la cultura del novecento soprattutto tedesca diciamo così ti rispondo telegraficamente non solo sì ma sì sì diciamo tutta la teoria tutta la vita delle forme appena si comincia a parlare di vita delle forme si comincia a parlare di biologia delle immagini si comincia a parlare di vita nel senso dell'animazione animismo siamo all'interno di una logica della morfologia e quando si dice morfologia si dice poi certo naturalmente possiamo essere più raffinati capire altre cose eccetera ma hai perfettamente ragione cioè è il problema di una morfologia cioè di uno studio delle forme in quanto viventi che attraversa ci sono momenti carsici e momenti poi invece improvvisamente in cui ecco io penso che noi siamo adesso sicuramente in un contesto di diciamo riflessione morfologica e Goethe è sicuramente almeno il più diretto punto di riferimento poi certo possiamo essere più sfumati cercare altri autori ma diciamo a parte che con me sfondi una portapetta ma ecco quello lavora sulla morfologia e sulla far ben l'era sulla teoria dei colori no? non è che siamo molto usciti da questa avendo perfettamente questa consapevolezza bina cioè appunto bios tecnica bios quindi no certo è chiaro questa vena morfologica ma è presente anche in noi in fondo perché anche oggi noi ricominciamo a discutere pesantemente dal tema della morfologia insomma non lo devo dire a Pinocchi chiaramente che conosce uno dei transiti centrali che è quello appunto del secondo ottocento scusami se sono così veloce però vorrei no no Pietro Conte Pietro andrà smutato mi sa ti era assegnato Pietro dice basta sì grazie professore sarò rapidissimo perché giustamente il tempo è tiranno ognuno quando legge un libro rizza le antenne su termini e concetti che gli sono cari e io è da qualche anno che la sento parlare del termine del concetto di gioco che compare più volte anche nel suo nel suo ultimo libro basta guardare gli scritti di Benjamin che cita ma anche Freud anche Warburg ecco gioco e cultura e cultura visuale una pillola immagino potrà solo dirci no ma hai ragione perché peraltro il tema gioco diciamo lo dico con timore ma sono convinto che il gioco è da buon tra virgolette darwinista e diciamo una delle come si può dire delle matrici tutto il discorso sull'estetico è un utile che stiamo lì ma anche proprio in termini basta pensare per esempio all'esperienza che ne so della disney ache per dire la riflessione appunto sul making special sull'artificazione è chiaro che il gioco è la forma attraverso cui diciamo sul piano ontogenetico si sviluppano tutte le nostre capacità estetiche quindi è un tema che non finisce mai e e non a caso esistono come tu sai benissimo delle filosofie del gioco alcune delle quali secondo me dovremmo anche recuperarle diciamo mi riferisco al buon vecchio Eugen Fink piuttosto che H.I.U.A piuttosto che altri autori tutto questo va rivisto chiaramente nell'ottica di un'esperienza motoria che è un'esperienza poi fondativa però dal punto di stato ontogenetico è tutto lì diciamo io non credo che andiamo molto oltre diciamo questa dimensione come si può dire infantile tra virgolette che è tutto l'altro che infantile quindi è fatto bene a usare questa mi fa piacere che tu lo noti e lo fai uscire come un termine come un termine che ricorre grazie poi Alessandro Ferraro ok cerco di essere brevissimo innanzitutto grazie mille per l'intervento la domanda riguarda un attimo tornare sulla questione della morfologia delle immagini e nello specifico la domanda è come si possono effettivamente leggere le immagini astratte o in generale le immagini non representational all'interno del biocultural turn e nello specifico ovviamente pensavo a Waringer e al nucleo problematico diciamo del concetto di astrazione soprattutto alla luce diciamo della dialettica che Waringer rileva all'interno di questa idea quindi tra pulsione di vita e pulsione di morte questa è una domanda che dovresti fare a Pinotti che ne sa più di tutti naturalmente ma io penso e qui veramente il tema della biologia delle immagini parlo di quella storica cioè di autori che sono anche un po' conosciuti li ha tirati fuori un po' Carlo Severi come fonti di Warburg parlo di Stolpe di questi autori qui e io credo che lì bisogna ripensare seriamente a cominciare da questi signori che appunto sono gli autori che Andrea ha studiato ovviamente da Rigol a scendere per intenderci io credo che adesso lo dico in una battuta spero di essere troppo semplificatorio questi signori hanno dimostrato per esempio che tutta la triliera dell'ornamento tutta la decorazione che applicavano ovviamente ai popoli primitivi che andavano scoprendo alla fine dell'Ottocento erano sempre tutte trasformazioni comunque del corpo umano per intenderci tanto per dirne una questione delle tante diciamo ipotesi allora lì per esempio dobbiamo forse cominciarci ad allontanare dalla logica appunto astrazione empatia voring eccetera e pensare a questi signori come autori che hanno invece costantemente messo insieme astrazione al naturalismo per intenderci cioè il corpo umano che a forza di operazioni di rotazione di rispecchiamento eccetera eccetera diventa diciamo decorazione astratta io vi inviterei veramente a rivedere questo piccolo capolavoro che ci segnala Severi ma che merita di essere studiato di questo stranissimo Yalmar Stolp che nessuno conosce e che ha fatto un lavoro sull'ornamento raccogliendo ornamenti da tutte le parti del mondo e che all'inizio di una genealogia anche questa dimenticata che ritorna poi negli anni settanta tra le mani di un autore stranissimo per noi però molto importante che si chiama Edmund Carpenter che era l'amico di McLuhan l'amico proprio di 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 sabati sera di McLuhan quindi uno dei grandi diciamo del della della comunicazione to cure il quale pubblica una raccolta di un matto austriaco che aveva raccolto tutte le partiture decorative un po' come Stolpe nell'ottocento ma questo discorso negli anni sessanta di di tutti i popoli partendo dal principio che tutte le forme estratte derivavano sostanzialmente dal corpo umano appunto per essere adesso un po' troppo sintetici e questo vale per il paleolitico come vale per i maori come vale per per i come si chiama per il libro è un libro sui pattern li chiamava così sostenendo scritto insieme a questo Karl Schuster ed è uno dei libri inzitutto è uno dei libri più belli che abbia mai visto comincianoci da questo nel senso che è talmente folle è talmente delirante che lui prende veramente le disegni del paleolitico dal suo e le canoe diciamo delle trobiand piuttosto che le case maori eccetera eccetera e dice guardate signori sono tutte trasformazioni di un impulso naturalistico e che quindi il rapporto fra natura e astrazione è diciamo è soltanto un'immaginazione diciamo quella che hanno fatto gli estetologi in circa cento anni in realtà non abbiamo fatto altro che variare diciamo all'infinito diciamo forme naturali attraverso meccanismi che poi sono meccanismi ripeto qua bisognerebbe interrogare il buon Andrea che queste cose le conosce sicuramente meglio di me ecco quindi andiamoci piano forse anche lì dobbiamo cominciare a mettere qualche puntino sulle i nel senso che non crediamo alla storia appunto che esiste l'astrazione e il naturalismo forse le cose sono un po' più complicate i studi cognitivi di oggi ci dimostrano che probabilmente è possibile ancora ragionare su questi su questi termini in termini di convergenza non di di culture diverse di fasi dell'umanità come si inventavano appunto i nostri teorici dell'inizio del secolo novecento in tempo Gabriele eccomi qua buonasera ciao Gabriele salve professore piacere di rivederla dopo tanto tempo grazie per la presentazione sarò velocissimo la prima cosa che volevo chiederle è se i due livelli narrativi che ha descritto durante la presentazione in realtà non vogliono anche delineare una sorta di metodo per chi pratica la cultura visuale cioè da una parte il costruirsi una iconoteca o quantomeno riferirsi ad un'iconoteca che nasce da un'esperienza personale e quindi il primo livello all'epifenomeno proprio direi di qualcosa che è capitato a chi poi pratica la cultura visuale e seconda cosa di conseguenza è se è così importante l'epifenomeno se è così importante l'iconoteca costruita sull'epifenomeno sull'esperienza ha senso o quale valore ha soprattutto oggi per chi fa cultura visuale guardare alla memetica e ai meme in memetica come controparte genetica biologica di questa relazione con le immagini e invece il meme appunto cito proprio le parole che ha usato come comportamenti tecnici in cui immagini e parole convivono grazie questo è un seminario adesso allora diciamo spero che veramente ci sia che traspaia questa idea appunto anche del metodo in qualche modo mi fa piacere insomma che si colga questa e che peraltro non ci si spaventi appunto dell'esperienza personale devi pensare che intere generazioni sono state abituate a sganciare completamente appunto la biografia come diceva poco fa Andrea dalla 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 ricerca perché era un discorso appunto sarebbe stato un discorso naif un discorso diciamo per quanto invece poi riguarda il tema meme memetiche eccetera e io credo che lì si apra veramente un abisso nel senso che noi se pensiamo in termini tecnici sappiamo che queste belle parole funzionano molto bene ma probabilmente hanno un ubicon system minimo dal punto di vista ecobiologico eccetera pensate alla grande moda dei memi messi in moto da Hawkins e tutta quella cultura ma sì ma alla fine però non abbiamo niente non abbiamo nulla se uno si va a leggere le fonti di Warburg non lo so se non abbiamo completamente nulla mi riferisco a Zemann mi riferisco a queste cose non sono in grado di valutare se è una strada diciamo percorribile e una cosa però ho imparato diciamo da non addetto ai lavori perché queste cose ripeto dovrebbero anche essere fatte da persone che conoscono bene che cos'è un meccanismo della memoria che cos'è la memoria dal punto di vista appunto neurocognitivo eccetera una cosa però ho imparato diciamo da letterato ho imparato che penso semplicemente a quello che ci insegna una grande una grande scrittrice come Siri Gustved che immaginazione e memoria sono due due meccanismi convergenti lo so da letterato lo do per scontato da letterato e di conseguenza credo che se abbiamo questa sensazione diciamo lavorare su questa anche qui al solito siamo sempre di fronte a delle stranissime endiadi delle combinazioni che apparentemente l'immaginazione è tutto ciò che non è memoria e la memoria è tutto ciò che non è immaginazione mentre appunto una scrittrice come Siri Gustved dice no signori guardate che non funziona così anzi diciamo che qualunque forma di racconto è come si dice ricordare ciò che non è mai stato diciamo è una battuta letteraria molto bella molto suggestiva eccetera credo che ci sia modo di ragionare ma qui bisognerebbe chiedere veramente agli addetti ai lavori ragionare ancora seriamente su questo tema e diciamo cominciare a ristudiare come pretendeva di fare però su basi che probabilmente dal punto di vista biologico sono anche relativamente inattendibili che sono Richard Seamon quando lavorava appunto quando scrive il grande libro sul meme e facendosi diciamo dei film che probabilmente non hanno ormai più un beacon system però la domanda c'è hai ragione cioè la questione rimane e quindi abbiamo diciamo diciamo il dovere di lavorare in quella direzione lo dobbiamo fare con strumentazioni diciamo più attrezzate più agguerrite e qui diciamo la questione si fa dura evidentemente perché veramente usciamo dal nostro ambito dal nostro ambito di competenze quindi no come si dice il tuo stimolo è giusto cioè è chiaro che anch'io sento questo come un come qualcosa che va indagato certo va anche aggiornato rispetto a quello che oggi sappiamo di questi meccanismi qui andrei sul duro perché se andiamo sul soft per intenderci se continuiamo così diciamo a parlare di trasmissione memetica come se fosse una trasmissione genetica rischiamo di fare diciamo degli errori di grammatica molto gravi che poi diventano rendono il nostro discorso letterariamente bellissimo filosoficamente interessante ma ci perdiamo un pezzo importante che è quello invece appunto della indagine vera cognitiva per intenderci Francesco Francesco Parisi è collegato Francesco è partito no ma io in realtà temendo che si sarebbe fatto tardi ritiro volentieri la domanda non voglio essere quello che tutti odieranno per avere tardato ulteriormente la chiusura del seminario siamo contenti di vederti quantomeno infatti no volevo solo ringraziarti davvero per la presentazione generosissima e anche farti complimenti per il libro che è gigantesco veramente ti manderò un'email con la domanda promesso benissimo esatto come sai diciamo la verità è che avrei dovuto copiare il tuo di libro più spesso quanto non abbia fatto però voglio ci sarà tempo per copiare diciamo e mi pare che il tipo di lavoro che è intrapreso diciamo per noi è estremamente importante anche perché ripeto non perde mai di vista anche oltre alle questioni teoriche generali diciamo una presa sul sui media diciamo scusala di minuzio diciamo quindi no io per esempio sono convinto che il tuo libro abbia aperto diciamo abbia imposto un modo di ragionare di cui adesso poi tutti anche uno che fa il letterato non c'entra niente deve tenere conto quindi non è stato un modo per farti grazie io credo che quel libro abbia una sua come si dice un suo anche significato come si può dire adesso è così cominciamo da qui ecco io lo percepisco così questo libro che è la cosa che dobbiamo anche diffondere il discorso che appunto faceva Margherita cioè forse è reale al porto il filosofo si ponga il problema della tecnica oddio perché in realtà ce ne sono migliaia di filosofi che si pongono il problema della tecnica per fortuna in Italia alcuni autorevolissimi anche però vai a dare questo farei l'esperienza cioè questi se lo devono studiare quelli dei mass media forse forse ma non sono neanche convinto diciamo o quelli che fanno teorie del cinema eccetera ma secondo me se lo devono studiare anche quello che che fa letteratura tedesca romantica capito e l'ilos forse è notevole capito cioè no quindi benvengano questi libri che dicono dunque adesso si parte da questo ragioniamo o no quindi no era giusto per dire in questo vedo una perfetta convergenza fra persone che siamo molto diverse diciamo anche come formazione come cose che abbiamo in testa e mi fa piacere appunto che poi Andrea riesca come si dice a tenerci anche lui un po' tutti è colpa sua in realtà cioè è sempre colpa della storia è colpa sua Andrea è sparito se l'è andato secondo me è lì è lì è ancora io infatti allora la ringrazio ancora per la sua presentazione allora gli lascio la parola per i finali solo un grazie un grande grazie Michele appunto generosità e storytelling generosità come ha detto Cisco e poi ci hai dato un grande esempio di come si fa una presentazione di un tema di narrazione potremmo ascoltarti per molto tempo grazie a tutti i partecipanti e grazie per le domande e alla prossima puntata di Zoom In buona serata a tutti arrivederci grazie ancora Andrea a presto ciao grazie ciao 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 ciao